Ogni giorno che passa cresce l'attesa per il debutto casalingo in campionato della VL in programma sabato 8 ottobre alle 21. Prima apparizione davanti ai propri tifosi dopo il largo successo ottenuto alla prima contro Trieste. Prima apparizione alla Vitri Frigorena con le nuove maglie da gioco presentate oggi presso il VL Point Pro di Sport. A bussare sabato alla porta della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro sarà Venezia, un avversario molto fisico e considerata da molti la terza forza del campionato. Una squadra soprattutto preparata perché comunque viene da un ciclo che ormai ha più di sei anni con lo stesso coaching staff. Quindi una squadra molto preparata sia sul piano tecnico tattico e anche molto profonda perché comunque hanno 14 giocatori che fanno l'Euro Cup di esperienza. Quindi sarà sicuramente un'ottima squadra e cercheremo di farci trovare pronti per provare di portarla a casa. È stata una settimana molto intensa come l'è stata anche quella prima e come l'è stata quella prima ancora. Quindi diciamo sono i frutti che si vedono. Quindi penso sia giusto continuare sulla stessa lunghezza d'onda per far sì di arrivare sempre più pronti anche alla partita di sabato. Se per Davide Moretti ritrovare il suo pubblico al suo secondo anno sarà emozionante visto che questa sarà una stagione in cui avrà un ruolo centrale nel roster, per il nuovo acquisto Leonardo Totè riabbracciare il popolo bianco-rosso alla Vitrifrigo Arena avrà un sapore dolce visto il suo trascorso in maglia VL di due stagioni fa. Sicuramente i tifosi sono sempre rimasti nel mio cuore anche quando sono andato via. Quindi non vedo l'ora di tornare al palazzo e cercare di entusiasmarli al meglio sicuramente. Diciamo che essere qua per me è sempre stato un motivo di gioia. Anche il primo anno che sono venuto qua appunto tre anni fa ormai sono passati. Quindi sì, speriamo di poter riprendere quello che va lasciato dal punto di vista personale. A livello di squadra speriamo di fare sicuramente meglio. Partirà tutto dalla difesa. Ovviamente bisognerà fare una partita estremamente fisica. Loro sono di taglia molto grande, soprattutto sotto canestro, quindi bisognerà difendere il nostro canestro e cercare di correre in contropiede il più possibile, che in questo momento è la nostra forza più grande. Nel successo di Trieste si era già vista la nuova canotta della VL in versione rossa, ma a completare il pacchetto di divise per la prossima stagione ci sono anche quella bianca e quella di colore gialla. Abbiamo cambiato alcune cose rispetto alla stagione passata, ad iniziare dal colletto, che è stato ripreso il colletto e lanciato per la divisa per campionato con lo schietta pesere. Abbiamo dato un'armonia più omogenea a tutta la canotta e il colletto a taglio a V, invece di avere il classico collo giro collo che scende. Abbiamo fatto un taglio diverso sulle spalle, quindi abbiamo scavato ancora di più le spalle nella parte posteriore in modo che la canotta rimanga più aderente al giocatore e quindi rimanga più attaccata al corpo, in modo da dare meno fastidio durante i movimenti di gioco. Sulla parte grafica, invece, abbiamo creato un'armonia di tono di alcune grafiche astratte, con una parte che va a scendere e a scurirsi a mano a mano che si va sul basso ventre. Il tessuto della canotta è cambiato, abbiamo utilizzato un tessuto innovativo con una percentuale in più di elastomero, in modo che la canotta sia più elastica e rimanga, come detto precedentemente, più aderente al corpo, in modo da infastidire il meno possibile il giocatore. A spiccare sui calzoncini e sulle sopramaglie dei giocatori c'è anche il logo di Pesaro Capitale della Cultura 2024, di cui i biancorossi si fanno promotori per questo importante traguardo raggiunto dalla città. Oltre alle divise da gioco, Prodi Sport in questo weekend promuoverà anche altri prodotti di merchandising, come le nuove sciarpe, zainetti e borsoni, tutti targati WL.